Diciamo che adesso possiamo in qualche modo, facciamo finta che iniziamo così il video. Dunque oggi, oggi che stiamo facendo questa chiamata è proprio la Domenica della Passione, delle Palme, ma quest'anno le Palme praticamente non ci sono, quindi questa Domenica di Passione e abbiamo letto La Passione secondo l'Evangelista Matteo. E subito a me viene in mente la grande opera di Bach su questo, che è un monumento. Tu puoi dirci qualcosa su questa opera? Perché era scritta Bach e qual è il suo intento? Certo, allora, Bach è vissuto tra il 1685 e il 1750, giusto per avere una coordinata temporale, ed era di professione per la maggior parte della sua vita un musicista di chiesa. Quindi era impiegato dalla chiesa luterana per fornire la musica necessaria al culto settimanale, festivo e anche appunto quotidiano della chiesa luterana di Lipsia. E nell'ambito di questa ritualità, esattamente come accade ancora oggi nelle altre chiese, durante la settimana santa, durante la settimana di Passione, venivano proclamate, o meglio cantate, insomma, due grandi passioni, una per l'appunto la Domenica delle Palme e l'altra il Venerdì Santo. Sappiamo, almeno ci è stato detto, che Bach abbia composto almeno una passione per ognuno dei quattro Vangeli. Purtroppo ci sono rimaste soltanto quella secondo Matteo e quella secondo Giovanni, più il testo di quella secondo Marco e qualcosina di quella secondo Luca, ma molto poco, insomma. Sicuramente però quella secondo Giovanni e quella secondo Matteo sono due tra i principali capolavori della storia della musica, della fede e della spiritualità. Come funzionano? Dunque, si tratta di una organizzazione molto complessa dal punto di vista strutturale proprio, anche molto lunga perché la passione secondo Matteo dura circa tre ore, quindi è bella impegnativa, insomma. E all'interno di essa abbiamo tutto il testo del Vangelo, cioè praticamente identico a quello che abbiamo ascoltato noi in chiesa oggi. E' un po' come avviene in tempi normali, in tempi di virus, nelle nostre chiese, drammatizzato, tra virgolette, con i vari personaggi. Di conseguenza... Scusa, se ti interrompo. Praticamente sono i recitativi o sono anche altre parti? Questi sono i recitativi che sono affidati alla voce dell'evangelista. Bach lo chiama l'evangelista, noi lo chiamiamo il narratore o il cronista, insomma. Che però si alterna con altri personaggi, per cui, per esempio, lì c'è una corrispondenza tra il tipo di voce e il personaggio. Per cui, per esempio, l'ancella che abbiamo ascoltato oggi è una voce femminile, mentre, per esempio, Pilato o Pietro sono delle voci maschili, insomma. Quindi c'è questa corrispondenza. Quando c'è la turba, quindi il popolo che interviene per dire, per esempio, crocifiggilo o cose di questo tipo, ci sono degli interventi del coro, che quindi, in quel caso lì, non sono recitativi, sono dei piccoli, brevi cori, che spesso sono di grandissimo valore drammatico. Oltre al recitativo ci sono poi degli intermezzi poetici, insomma, degli intervalli poetici. Che servono? Praticamente Bach fa la struttura proprio della lezione divina, quindi c'è la lezione, che è proprio il testo evangelico, insomma, e poi c'è la meditazione e la contemplazione. Quindi c'è la preghiera e la contemplazione personale, no? La contemplazione personale avviene soprattutto tramite le arie e gli ariosi, che sono delle parti su testo poetico libero, quindi non evangelico, scritto apposta da un poeta suo collaboratore, che si chiamava Picanner, e che talora un pochino risentono dell'epoca, quindi a volte hanno un linguaggio un po' strano per i nostri gusti. Però, devo dire la verità, da musicista e da credente, più li conosco questi brani, più mi ci addentro, più vedo la loro ricchezza, meno rimango stranita da certe espressioni, anzi maggiormente le apprezzo e le trovo bellissime. E queste sono appunto delle riflessioni, ed è molto interessante che Bach appositamente crei, in questo caso, a differenza della narrazione evangelica, una contraddizione spesso tra il personaggio e la voce. Faccio un esempio molto evidente, perché almeno può aiutarci a capire. Uno degli episodi più toccanti della Passione secondo Matteo è il pentimento di Pietro, dopo che ha rinnegato Gesù, esce e piange, e dopo che viene narrato appunto di questo pianto, c'è un'aria incantevole, veramente straordinaria, che è Erbar Medich, e che rappresenta proprio la richiesta di pietà da parte di Pietro nei confronti del suo maestro. Però noi Pietro ce lo immaginiamo come un uomo, anche di una certa età, quindi anche nel Vangelo narrato da Bach, è comunque un basso, quindi una voce profonda. Invece Erbar Medich è cantato dal contralto, quindi è un'alienazione, una vera e propria alienazione che Bach crea. Perché motivo? Perché altrimenti noi vedremmo questa cosa proprio come un personaggio, cioè il personaggio di Pietro che si è pentito e vabbè, problemi suoi. Invece, se a cantare il pentimento di Pietro è un contralto, cioè non c'entra niente con Pietro, allora siamo tutti noi, quindi è ciascuno di noi che chiede perdono a Cristo per tutte le volte che l'ha rinnovato. Infine, ma non meno importante, ci sono i corali che si trovano all'interno proprio della narrazione, all'interno della storia della Passione secondo Matteo, e che sono invece la preghiera, la preghiera corale. Mentre le arie sono la preghiera personale, la riflessione personale, invece il corale è la preghiera della Chiesa. Quindi qualcosa che si avvale di un repertorio antico, di un'emotività diversa, meno soggettiva, più corale appunto, più liturgica, e che trasformano questo rimuginare in una vera e propria preghiera. Quindi c'è questa triplice realtà. Poi ovviamente ci sono tanti altri elementi, ci sono gli ariosi, i cori, insomma, però essenzialmente sono questi tre gli elementi principali. Sì, è molto bello questo, penso, per noi, che oggi possiamo ascoltare e approcciarci a questa opera. E noi lo vogliamo fare anche sotto un profilo, direi così spirituale, più che soltanto così culturale o anche musicale, che anche già solo per questo sarebbe grande, ma anche a livello spirituale può essere utile. Questa corrispondenza tra la preghiera personale e la preghiera liturgica, anche di queste aperture, diciamo, dei corali a una preghiera, diciamo, più ampia, più comunitaria, penso sia molto utile e molto bello. Bac si muove in un, diciamo così, in un ambiente, tra virgolette, luterano, no? Certo. Ci sono, come dire, però è un luteranessimo, penso, ancora molto vicino alla nostra sensibilità cattolica, nel senso che era agli inizi, diciamo, in qualche modo, ormai era già un po' di tempo, però la sensibilità è molto vicina, anche in qualche modo, alla nostra. Ci sono, diciamo, a tuo parere, delle grosse differenze, cioè delle suggestioni che vengono proprio da una spiritualità tipicamente luterana e che possono aiutare i cattolici, oppure, non so, degli elementi che per noi sono quasi inaccettabili o inconcebibili? Nelle passioni, assolutamente no. Nelle passioni c'è veramente, è uno dei motivi per cui attraggono veramente tutti i cristiani e anche tante persone che cristiane non sono e che riescono a trovarvi anche un messaggio universale, insomma, perché per noi la passione di Cristo è uno dei misteri cuore della nostra fede, però chiunque abbia una sensibilità verso il mistero del male, il mistero del dolore, il mistero della sofferenza trova una risposta in questi brani. Anche perché, tra l'altro, Bach è veramente un finissimo teologo in musica e, per esempio, anche solo nelle due passioni che ci sono pervenute, Matteo e Giovanni, risponde in maniera molto diversa ai due punti di vista diversi dei due Vangeli, insomma. Quindi, quello secondo Matteo è molto più la contemplazione della sofferenza di Cristo. Quello secondo Giovanni è molto di più la glorificazione di Cristo. Quindi c'è questa differenza molto bella. E poi l'altra cosa che a me ha colpito tantissimo da quando ho cominciato ad avere gli strumenti per rendermene conto, insomma, è che Bach ci permette di vedere, almeno in questo contesto, la differenza confessionale come un arricchimento anziché come una contrapposizione. Nel senso che ci dà qualche cosa che forse a noi può mancare. Nel senso che, ad esempio, la teologia della grazia in lui è molto, molto sviluppata. Questo è un tema tipicamente luterano, ma che non viene proposto in modo di predestinazione, ok? Ma con una grandissima attenzione a questa misericordia, a questa tenerezza di Dio che si rivela in ogni istante, insomma. E l'altra cosa che stupisce è che in realtà anche su aspetti che sono, diciamo, abbastanza cattolici, insomma, specificamente cattolici, come il culto e la venerazione per l'eucaristia, Bach ha molto da insegnarci. Per esempio, c'è un'aria che vi consiglierei di ascoltare. Ecco, un piccolo consiglio è quello di non cominciare subito con tutta la passione, secondo Matteo, perché può scoraggiare, insomma. sono tre ore e se uno non è un po' preparato è come fare l'Everest dopo aver fatto il giro del parco, insomma, perché non è proprio il caso. Però cominciare da qualche aria. Una di quelle più immediate, ma anche più ricche dal punto di vista spirituale, emozionale, suggestivo, è Ich werde dir mein Herz schenken, cioè Ti donerò il mio cuore. E che è l'aria che si trova subito dopo l'istituzione dell'eucaristia. Allora, uno dei tratti bellissimi della San Matteo è che ogni volta che Cristo parla, anche nei recitativi, la sua voce è circondata da un'aureola di suono. E questa aureola è fatta dagli archi che in questo modo differenziano la voce del Cristo da tutte le altre, no? Mentre il Cristo dice le parole dell'istituzione dell'eucaristia, gli archi inseriscono un piccolo motivo molto dolce che poi diventerà il motivo principale di quest'aria in cui si ringrazia per l'eucaristia. Ecco, lì c'è una bellezza di quest'aria cantata dal soprano, quindi da una voce femminile che ci dà la dimensione sponsale dell'eucaristia, la dimensione di un'unione che è ancora più intensa di quella tra una coppia di sposi, no? e diventa un tuffarsi l'uno nell'altro e letteralmente proprio queste le parole che vengono usate, no? La parola che Bach utilizza è proprio il tuffarsi, no? E quindi c'è questa danza, è un brano molto danzante che quindi ci raffigura l'amore nel modo in cui noi esseri umani siamo abituati a pensarlo come tenerezza, come prossimità e all'interno di questo amore c'è questa tuffarsi l'uno nell'altro dell'eucaristia ed è una cosa meravigliosa secondo me. Penso che questa lettura, no? Forse in qualche modo anche il fatto che Bach nella sua esperienza religiosa non ha l'eucaristia come la l'abbiamo noi come dire gli ha dato la possibilità di leggere in maniera in qualche modo anche sotto un certo punto più profondo questo questo tema evangelico e mi fa pensare di come in questi giorni in questi tempi la mancanza dell'eucaristia per tanti di noi può davvero trovare in questa opera di Bach una sorta di di aiuto no? Magari potrebbe essere utile nel Giovedì Santo ascoltare questa sì infatti è quello che fare no? Sarà forse una una cosa che possiamo proporre come cammino spirituale il Giovedì Santo non si può vivere se non partecipando da casa a una celebrazione della messa della cena del Signore però possiamo come dire approfittare di quello che Bach ha fatto e farlo nostro insomma questo può essere una bella cosa no? Senza suggerire ecco un'altra diciamo piccola curiosità diciamo che può essere che può aiutarci a leggere bene questa e ascoltare bene questa opera se uno dovesse in qualche modo scegliere perché tre ore sono tre ore quali sono secondo te le cose più importanti e più significative con cui iniziare questa scalata dell'Everest come tu l'hai detta per potersi cominciare diciamo ad allenare per poter poi magari un giorno poter ascoltare con gioia e anche con serenità tutta l'opera allora è difficile dire perché ognuno poi ha una sua sensibilità insomma però diciamo quello che secondo me non si può non ascoltare almeno una volta nella vita ecco sono almeno il coro iniziale e il coro finale che sono due composizioni assolutamente straordinarie sotto tutti i punti di vista e in quello iniziale Bach utilizza tra l'altro un doppio coro e una doppia orchestra nella Passione secondo Matteo in modo che anche grazie alla conformazione proprio strutturale della chiesa in cui sono state eseguite ci potesse essere un dialogo anche stereofonico per così dire tra i due cori e le due orchestre e utilizza questa disponibilità per creare proprio un dialogo anche musicale il coro rappresenta qui una massa di persone addolorate e in particolare personifica la figlia di Sion qui Bach si riallaccia tanto a tutta la tradizione dei profeti insomma che spesso utilizzavano questa figura della figlia di Sion ma anche al Cantico dei Cantici infatti poi troveremo molto questa figura della sposa un po' in tutta la Passione secondo Matteo torna molto spesso insomma e all'inizio proprio i due cori si invitano reciprocamente a contemplare anche piangendo questa Passione che sta per svolgersi sotto i loro occhi e avvolgere lo sguardo dapprima sulla pazienza di Cristo sulla sua mansuetudine sul fatto che porta lui stesso il legno della croce e poi sulla nostra colpa tra l'altro in tedesco c'è la rima geduld schuld geduld è la pazienza e schuld è la colpa per cui questo aiuta molto la cosa stupende una delle tante cose stupende di questo primo coro è che a questi due cori che dialogano se ne aggiunge poi un terzo che normalmente adesso viene fatto eseguire da un coro di bambini per cui è anche molto bello da vedere insomma e il coro di bambini intona all'interno di questa struttura musicale già così complessa così difficilissima da vedere perché tra l'altro sono due cori due orchestre cioè ci sono una marea di pentagrammi proprio sullo spartito da vedere il coro dei bambini intona un corale luterano che è l'agnello di dio agnello di dio che toglie i peccati del mondo per cui laddove i due cori vedono l'aspetto umano della passione quindi si invitano l'un l'altro a contemplare la mansuetudine di Cristo la pazienza eccetera si staglia sopra di loro questo inno purissimo che invita a guardare l'agnello di dio che quindi rivela il significato più profondo della missione di Cristo e della redenzione che gli ci porta ed è un brano veramente anche emotivamente che non può lasciare indifferenti per cui veramente lo consiglio assolutamente a tutti mentre l'ultimo coro è la contemplazione del Cristo morto praticamente si svolge al di fuori della tomba nella quale è stato deposto ed è fantastico perché c'è una grandissima pesantezza nelle voci basse nei bassi dell'orchestra che danno proprio l'idea della terra come dire l'uomo creato dalla terra che torna alla terra e abbiamo anche dei movimenti del basso che tirano proprio verso il grave c'è la forza di gravità sembra di veder in questa in questa musica ma all'interno di questo c'è il canto del del lamento dei fedeli insomma che hanno partecipato alla passione che diventa anche una nina nanna nei confronti del corpo di Gesù per cui c'è anche una tenerezza veramente struggente e Bach naturalmente non apre in maniera esplicita alla resurrezione in quest'ultimo brano perché la liturgia ci aiuta insomma a entrare fino in fondo nel mistero della sofferenza di Cristo lasciandoci in sospeso dal venerdì pomeriggio fino alla veglia pasquale per cui uno può rimanere magari anche un po' stupito e dire ma finisce così male sì finisce triste perché la passione deve finire così insomma ma credo che sia anche un modo per aiutare anche noi che forse tendiamo sempre un po' a scappare dalla realtà del silenzio del sabato santo della dell'angoscia che viene dal sapere il Dio incarnato morto è una cosa che veramente sconvolge e ci aiuta invece a focalizzarci su questo e a sentire questa compassione che diventa anche compassione per ogni per ogni uomo che muore perché noi crediamo nella risurrezione ma non ci toglie la compassione per la morte quindi credo che sia le due cose da cui partire ecco indubbiamente penso sì questa sia una cosa da recuperare nella nostra spiritualità moderna nel senso tendiamo troppo a fare della risurrezione una sorta di finale positivo gli happy end che risolve tutto dimenticando il sabato santo rischiamo di fare sì in effetti della risurrezione soltanto un esito scontato un epilogo scontato della vicenda di Gesù esatto penso restare nel venerdì santo nel sabato santo che è storicamente quello che noi viviamo perché se la nostra risurrezione è nell'ultimo giorno noi quello che viviamo adesso è questo tempo tra la morte di Gesù e la sua venuta nella gloria ed è proprio quello che viviamo noi anche con il dramma di di non sapere di non avere nella risurrezione soltanto una risposta consolatoria ma di attendere dalla risurrezione una risposta globale ma vabbè questi sono temi più teologici e però sarebbe è bello che come dire riscoprire e ascoltare anche un'opera come la passione può suscitare in noi ci mette pienamente anche nel dramma della morte di Gesù e anche di questo mistero del sabato santo che è un giorno davvero particolarissimo nella vita della Chiesa bene io penso che questo possa aiutarci a entrare meglio in in questa opera e poi nel nel tuo sito ho visto che farai quindi dei come dire cioè noi possiamo insomma passarci e ci guiderai a scoprire sempre meglio anche quest'opera con delle indicazioni di video dei testi anche con le tue riflessioni esatto io ho un blog che è chiarabertoglio appunto blogspot.it nel quale da oggi domenica delle palme fino al giorno brevissima presentazione ma molto semplice insomma di alcuni brani particolari della passione secondo Matteo tra cui anche appunto il coro iniziale e il coro finale e con poi dei video dei collegamenti video ha delle esecuzioni tutte diverse ma che mi sono piaciute molto su youtube dei brani di cui parlo e poi con il testo tradotto in italiano sotto in modo che anche chi non sa il tedesco possa godere di questa musica senza essere limitato dal punto di vista linguistico insomma quindi un piccolo tentativo per far sentire anche un po' di vicinanza a tante persone lontane che magari in questo periodo si pongono tante domande e non sanno bene a chi tirarle fuori a chi darle ecco certo e sì poi dopo la musica è capace anche di dare risposte che le parole non riescono a dare che scavano più dentro di noi e quindi non per niente ecco nella vita liturgica anche nostra della chiesa l'aspetto musicale ha questo ruolo essenziale di andare fin lì dove le parole i gesti non possono arrivare ma in cui soltanto alcune soltanto la musica può giungere o addirittura il silenzio che è una particolare forma di musica bene io ti ringrazio e grazie a te facciamo dunque anche guidati da te e da questa splendida opera un cammino verso la Pasqua che proponiamo benissimo grazie mille e a presto ciao grazie a te ciao